Gianni, da dove partiamo? Partiamo dalla preistoria della radio, posto che la radio è la regina della moderna comunicazione. Beh, partiamo dal primo bang. Volete vedere il primo bang? Eccoci qua. Questa è una macchina di seconda metà dell'Ottocento ed è la prima macchina che incontra Guglielmo Marconi quando Giovinetto si affaccia alla finestra della scienza ufficiale dell'epoca. E che cosa incontra Marconi? Incontra una macchina fiammeggiante. Cosa centrano queste fiammate con le onde radio che Marconi vuole sperimentare? Vuole, come dire, addomesticare per poi creare ciò che ha creato? C'entra tantissimo perché questa energia visibile genera una energia invisibile davanti ai nostri occhi anche in questo momento. Quell'energia invisibile generata da questa fiammata è l'onda radio. Marconi raccoglie quest'idea geniale sperimentata dai suoi predecessori dopodiché, ecco qua, riporta quella fiammata su questo tavolino e da qua parte questa storia stupenda. Anche questo tavolino fa fuochi e fiamme ma i fuochi e le fiamme di questo tavolino sono controllati dal tasto telegrafico. una pressione rapidissima genera una fiammata rapidissima, brevissima, che genera un'onda radio brevissima, un punto per il telegrafo Morse. Marconi tiene pigiato un attimo più il tasto telegrafico, genera una fiammata più lunga nel tempo, che genera un'onda radio più lunga nel tempo, una linea, punta e linea, lanciati nell'universo attraverso le onde radio, non più attraverso i fili del telegrafo Morse. Quindi Marconi qua inventa, togli i fili al telegrafo, inventa la radiotelegrafia. Annuncia al mondo, Marconi, via i fili, via la greve materia. Ho sperimentato un filo invisibile che sostituirà il filo visibile. Questo filo invisibile è l'onda radio. Su questa onda radio ho appoggiato i punti alle linee del telegrafo Morse. Ho inventato, ho sperimentato la radiotelegrafia. Dopo questo momento magico, talmente magico, talmente incredibile, che la gente non lo credeva. i grandi pensatori dell'epoca che dicevano dove ha nascosto i fili Marconi. Non si immaginava di poter trasmettere un segnale, un'energia senza un filo. E Marconi vi riuscì. Allora dicevo, dopo questo momento di straordinario entusiasmo che determinò questa invenzione, tutti i governi del mondo chiesero a Marconi di togliere i fili e i loro sistemi telegrafici a fili che possedevano già i naviganti. Costruissi Marconi delle, delle apparecchiature che ci possono consentire di collegarci con la terraferma quando siamo in navigazione. Dicevo, dopo questi alcuni anni, siamo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, Marconi fa l'altro miracolo scientifico, riesce ad appoggiare su questa onda radio non più solo i punti e le linee del telegrafo, ma la voce. Inventa la radiofonia, inventa la radio, inventa tutto ciò che oggi è comunicazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.